Oggi parliamo dell'espressione a bizzeffe. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Non so se lo sai ma io leggo moltissimo. A casa ho molti libri, ho libri a bizzeffe. Cosa vuol dire? A bizzeffe è un'espressione che significa in grande quantità, abbondantemente. È un'espressione molto utilizzata e per molto tempo gli studiosi, gli storici, ci hanno detto che veniva dal latino. In realtà abbiamo scoperto da poco tempo che deriva dall'arabo, bizzeffe, non so come si pronuncia, che significa in abbondanza. Quindi, se ti dico che ho libri a bizzeffe, significa che ho moltissimi libri. Se ti dico che Alberto sta facendo soldi a bizzeffe, vuol dire che Alberto sta guadagnando moltissimi soldi. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast, puoi lasciare una valutazione positiva nella piattaforma o nella app che usi per ascoltarlo. Puoi seguirmi su Facebook o puoi prenotare una lezione con me. Trovi il link in descrizione. Noi ci sentiamo domani. Ciao!